Prestito con diritto ed obbligo di riscatto è questa la formula proposta dalla Salernitana all'Ospezia per prendere Daniele Verde, il calciatore che in carriera ha giocato da esterno d'attacco e centrocampista offensivo ha già dato la sua disponibilità al trasferimento in Campania. Già negli anni scorsi Verde è stato accostato più volte alla Salernitana, questa volta però a differenza del passato si è davvero nel cuore di una trattativa condotta sotto traccia dal DS Petraghi. All'Ospezia l'ultima parola prima di sancire il possibile passaggio in Granata di Verde alla Salernitana, il suo eventuale arrivo rappresenterebbe un gran colpo per i Granata e per il tecnico Bartuscello che con il 28enne atleta napoletano avrebbe una soluzione di esperienza e qualità nel reparto offensivo. Intanto Petraghi sta provando ad accelerare sulle cessioni, con il Torino si discute e si parla di Daniluk che la Salernitana valuta 4 milioni, cifra che potrebbe essere in parte ammortizzata dall'inserimento di un calciatore nell'operazione da dare in prestito alla Salernitana che nel frattempo deve trovare un'intesa con il Lecce per l'Assanaculi-Balì. Il Maliano invece avrebbe trovato l'accordo con i Salentini un anno in più di contratto e più o meno lo stesso ingaggio di Salerno con qualche premio in più legato ai risultati personali e di squadra. Per D.A. infine nessuna novità di rilievo, il Villareal aspetta, il Betis pure e la Lazio alla finestra.